Ciao a tutti da TheFaceGame, qua siamo tutti molto felici di commentare Eh sì, siamo con un sorriso Ragazzi avete visto la nuova intro fatta da Alvas, il suo canale è in descrizione, è un bravissimo editor Ringraziamo tantissimo per l'intro che ci ha fatto Grazie, ringraziate anche voi con un like Ecco, e qui come sempre Tiburinen a commentare, ci sono tutti, Arador, tutti quanti È tipo un bar qua Sì è un bar, al numero 10 c'è Blackster96 che fa un no scoop a headshot a cross del mar Ma guarda come sclera Ma ti viene da, non so, da bestemmiare però No, non mi viene da dire, ma che cazzo di culo No, no, no Al numero 9 c'è tie to under, Tatiana Headshot with Predator ragazzi È preciso cazzo Gli è arrivato in testa proprio Ha fatto? Oh ha fatto un beccio Sì ragazzi, Arador è la prima volta che vede la top 10 Quindi per lui è tutto live In super diretta Lui è in super diretta Quindi Indirettissima Ecco guarda, ti spiega lui come ha fatto Sì, quello che è stato ucciso gli ha scritto LOL, headshot with Predator E beh, qui si vede benissimo Gli esplode la testa Ho messo il replay per la curiosità di tutto Al numero 8 c'è Irish Nixon Ragazzi È un amico del Dr.Pack Difatti cosa fa? Eh, cosa fa? Allora me lo svelate subito È un quadruplaca C4, 4 Giusto? Eh sì, perché Se ti dico che è amico del Dr.Pack Capisci subito che fa un bug Eh sì Una multi-kill con il C4 Certo, certo Al numero 7 Al numero 7 c'è una cosa Guarda Xample Gamify ragazzi Ha un canale YouTube anche lui Quindi in descrizione trovate il link Ah sì Guardate qua Tira il Javelin Tira di tutto Tira di tutto Che vuole voler coltire? No No scoop Così spara Sì, è zona di lancio E fa 4 kill col Javelin E' tutto qui Perché di kill col Javelin ragazzi Bravo È bravo È bravo sto ragazzo Non è finita qua No dai non dirmi così Non ti dico così Guarda Non ti dico niente Guarda Guarda Ha scritto un cup Cazzo No scoop Non ha fatto Vabbè vabbè Ma ha sparato a caso Un cazzo Riesce spostato L'ha tirato E li ha colpito uno Al numero 6 È un grande No LCO 30 Lo stimo Cioè stima completa Ci passa un sacco di clip Ma questa Guardatelo Non voglio Una sfida E va bene L'ha cambiato Aspetta Aspetta Rinnegan Cosa vuoi Levi dire a quello che usa lo scudo Che è un cretino No ma Boh ma guarda LCO 30 Sì 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 Lui è stato bravo Ma l'altro era un cretino Sì ma che bravo Sì ma era un cretino Ok Al numero 5 C'è Viable V'ja Che fa una roba assurda Sì sì ma è meglio Pipinati di più Dai Leggilo tu No adesso lo legge Tibu Leggilo Viable V'ja Eh il papino Tu mello No 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 Era la quarta Adesso che cazzo Decisione Eh guardate Headshot Cioè l'ha puntato L'ha puntato Per la testa Headshot Ma il mira in testa Headshot Headshot Il mira in testa Il mira in testa Ci sono tutti di schiena Che dormono Eh capito Ben capito Miralo in testa Dai Vediamoci la 2 La numero 2 C'è Scro Tickler C'è Scro Scro No No Scro Scro È un trick Scro Guardate eh Qui Scro Ma dai Ma guarda cos'è Il mercato delle vacche Ma basta Vai avanti Quadrupla con un colpo È una cosa assurda È una cosa assurda È tipo maratona Mamma mia Ma io prima io Ma c'è Non 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 c'è Tutti in fila Andiana Più 600 Indiana Undiana Undiana Tutti in fila Indiana Guarda Guarda Un cedimento Un cedimento Un cedimento Un cedimento Un cedimento Non si capisce Mamma mia Un'orgia di quelle potenti Cazzo È la classica scena Dove si stanno annusando 4 guardate E cadono tutti Nello stesso modo Sono te palle Dovevo cadere per davanti No Al numero 1 C'è una cosa assurda Che io non commento Non commenti Dico solo il nome Focus Merc Ragazzi Focus Merc Qua ti viene Da No Oh mio dio Triple headshot L'epoca si dà flashato Triple headshot Triple headshot No scoop Saltando Ragazzi assurdo Vabbè Se il video vi è piaciuto Cliccate su vi piace Continuate a iscrivervi Al nostro canale Dopo la prima Io non so più cosa dire Non dirò niente Sempre che parla Ciao a tutti Alla prossima Ciao Ciao Ciao